Prima di iniziare col video ringrazio la Supercell che mi ha segnalato due video per copyright Allora non so assolutamente perché, perché questa cosa non ha senso, tutta YouTube Italia fa Clash Royale E questa cosa non la capisco Comunque non siamo qui per parlare di questo, ma bensì per spacchettare e per fare attacchi epici Allora non crederete mai a quello che ho, perché cioè nemmeno io ci credevo, l'ho appena visto Allora a parte tutti questi bauli che ho tenuto solo per voi, quindi dovete mettere like ora Ho 2853 trofei, il mio record, no non è vero il mio record è 2884 Però comunque tanta roba, lasciamo il fatto 7777 monete Stiamo a livello 4 del baule del torneo, quindi aspettatevi un mega chest opening di questo baule Ma la cosa più importante più più è questo Oh mio dio io non ci credevo Per la prima volta posso comprarlo senza spendere nemmeno un soldo Madonna cioè sono troppo pro Ah sono anche livello 10 Cioè oggi un casino di novità per voi Grazie Gianluca che mi hai donato gli sgherri Io direi di procedere con lo spacchettamento Oh gemme grazie, molto gentile Niente, va bene così, grazie Apprezzo molto che i bauli omaggio non mi diano mai niente Vero? Esatto Baule d'oro almeno tu mi dai qualcosa? Niente epica Benissimo Secondo baule d'oro e poi facciamo un attacco Barbari scelti Oh posso potenziare il cannone Quello che piace a tutti No sto scherzando Anzi no apriamo l'ultimo baule e poi faccio un attacco Ma pensate se mi esce la leggendaia qua Infatti Come non detto Manca solo il baule epico E il baule leggendario Che spacchetteremo dopo un attacco Che ovviamente andremo a perdere Ma questi sono dettagli Allora io Io terrei tanto a non perdere Perché non voglio perdere le mie coppie Ci ho messo anche un casino Ma visto che ogni volta che vado a registrare la perdo Esatto la perderò Basta Mi stai Ma quanto elisirà questo? Regà non ho ancora attaccato Ora ti faccio il culo Ora ti faccio il culo E mo Parati questo Eh? Com'è che vuoi fare? Tova anche questa gelo Madonna messa perfetta Che benassore E vieni qua te Dove credi di andare con quella pala eh? Lo stava inseguendo Vieni qua Dove vai con quell'accetta eh? Chi ti credi di essere? Il boscaiolo Ah Che battuta No non era una battuta Bah E non lo posso parare Come faccio? Eh vabbè Una torre probabilmente l'abbiamo persa Però non è detta ancora l'ultimo E basta Che due Sono pronto a lanciare il mio domatore Che ti spaccherà tutto Vero domatore? Oh E la sua torre è andata giù E la sua torre è andata giù E anche la mia Che bello Eh vabbè una torre me la fa però Non 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 Ok lì siamo fottuti perché non ho truppe per difendere Però abbiamo fatto quella torre Dagli un colpo Sì 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 E tu questa Madonna se siamo pronti Ah Scusate un po' lo sfogo però Vincere così una Al primo tentativo non è Non è facile Soprattutto quando registro Oh E possiamo andare ad aprire Guardate quanti trofei Oh Madonna Baule epico Fornace Torre infernale Golem di ghiaccio Megasgare Ah tra l'altro Nello scorso episodio Mi ha trollato questo baule Bastardo E stavolta lo so che c'è un'epica Solo che non volevo questa epica Ma va bene lo stesso Grazie Andiamo ad aprire l'ultimo baule E poi direi di concludere l'episodio Perché abbiamo trovato Una fottuta leggendaria Guardate come sbriluncica Allora io vorrei la principessa La sto chiedendo da un casino E grazie 3, 2, 1, go No 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 lo stregone però Non l'ho mai usato da quando l'ho trovato Mannaccia a te Grazie per avermelo ripetuto Esaurito No Io voglio la principessa 97 gemme Stiamo a secco proprio Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Perché ho fatto quella voce Comunque ragazzi per questo episodio è tutto Se vi è piaciuto Lasciate mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci siamo al prossimo giorno Per un prossimo video Beh ragazzi Ora ti spacco Oddio Oddio 900 700 Per che c'è il mio mardafe Oggi siamo qui